Blitz Interforce dall'alba di oggi nel quartiere Rancitelli di Pescara, dove decine di uomini di polizia, carabinieri, polizia municipale hanno setacciato l'intero quartiere, identificando decine di persone, effettuando diverse perquisizioni domiciliari anche con l'ausilio di unità cinofile. Come si ricorderà, ad inizio settimana una troupe di Rai 2 guidata da Daniele Piervincenzi fu aggredita al ferro di cavallo. Con il giornalista c'erano anche dei collaboratori rimasti leggermente contusi. Per quell'aggressione la polizia ha denunciato tre giovani. Ai nostri microfoni due dei protagonisti dell'aggressione. È successo che Piervincenzi stava sotto casa mia con la telecamera verso l'alto e alla finestra di casa mia c'erano affacciati mio nipote e mio figlio e lui li riprendeva. Dopo si è affacciata mia madre gli ha detto guarda i bambini non li riprendono e lui la telecamera non l'ha abbassata, ha continuato a riprendere i bambini. Sono arrivato io e gli ho detto guarda che mia mamma ti sta dicendo di abbassare la telecamera perché non vuole che riprendiamo i bambini e lui continuava. Dopo ho reagito con una spinta, gli ho dato una spinta e lui si è rifroncato come per dire voglio riprendere, voglio riprendere e è partito lo schiaffo. Dopo il Piervincenzi l'abbiamo ringorso per farli scappare, sono caduti lui e la troupe là in mezzo alla terra e niente, io sono dispiaciuto, chiedo scusa a Piervincenzi, se le accetto le sue scuse. C'eri anche tu insieme? Sì sì, c'era anche io, è stato uno sbaglio che in quel momento era agito così però se tornerebbe indietro non lo rifarebbe di nuovo, è normale. Chiediamo scusa al Piervincenzi è la troupe ma però pure lui con i suoi modi non si fa così. Piervincenzi c'è un brutto atteggiamento, si è messo a correre dietro a un tossico dipendente prendendolo dal giubbino, la girate tu, cioè mo ti dico io quel tossico dipendente lo conosco, la madre e il padre non lo sanno che lui si droga, per colpa sua l'hanno cacciato di casa, lui adesso vive qua sotto il ponte qua, questo nuovo, qua vicino, per colpa del Piervincenzi. Tornando all'episodio dell'altro giorno, adesso a mente fredda ovviamente ti sei pentito di questo gesto? Sì sì, e io devo andare in giro, mi tengo a mettere un cappuccio, la gente mi guarda brutto le cose a me, mi da fai stedio, no io vado sempre in giro, io sono uaglio, tengo 22 anni. Ma cosa fai tu, lavori? Le faccio il meccanico, abusivo, lo dico abusivo. Mi piacerebbe trovare un lavoro? Sì, magari. Il giornalista è entrato senza un documento che dichiarasse come voi che siete giornalisti, è venuto a fare tante di quelle domande che non si fanno normalmente e con più ha ripreso dei bambini familiari che non si potevano fare, senza alcuna autorizzazione o di un genitore o di qualcuno che ci poteva pensare.